Bello a tutti ragazzi, oggi faremo un video dove faremo i quiz, io dovrò rispondere alle domande. Allora, iniziamo. Quante zampe ha un ragno? Otto. Quanto fa 5 più 7 diviso 2? No, cambia domanda. A casa. Che ne so, dai. Che ne so, dai. Non voglio raccolare. Va bene. Quanto dista la Terra dal Sole? Quando dista la Terra dal Sole? 150 mila chilometri o 150 milioni di chilometri? Sporo a casa. 150 mila. Va meglio? Sì. Va meglio? Sì. Di cosa è fatta la scarpetta di cenerentola? Ah, mi ricordo questa. Cristallo. Cosa è il lievito? Cosa è il lievito? Un fungo o un tipo di farina? Un tipo di farina. Un fungo. Come un fungo? Il dinosauro più lungo mai scoperto quanto misura quanto? Uno, due, tre o quattro autobus? Tre? Tre quasi. Ci sei? Va bene, dai, lo cantiamo come giusto. Perché le aranze fanno così bene alla nostra salute? Perché contengono la vitamina C. Bravo. Secondo le buone maniere, cos'è che proprio non si può mettere sul tavolo quando si mangia? I gomiti? No. Se vogliamo rispettare l'ambiente, cosa dobbiamo fare mentre ci laviamo i denti? Spegnere l'acqua. Bravo. Cosa si festeggia il 31 ottobre? Bravo. Halloween. Bravo. Cosa vuol dire in inglese? We're... 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 Less... We're... Less... We're... 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 Senza fili. Bravo. In quale continente si trova l'Italia? L'Europa o altri continenti? L'Europa? Bravo. Quali animali sono così importanti per la vita dell'uomo sulla Terra? Le api o i pesci? Capi? Bravo. Quanto fa 5 per 6? Facile! 30. 30. Cos'è la luna? Un cratere, un satellite o un pianeta? Cos'è? Ah... Sparaccato. Un... Cratere. Un cratere, un satellite o un pianeta? Un satellite? Sì. Sì. Come si chiama il cattivissimo Grand Vizier nel film dei... Grand Vizier. Ah. Nel film dei Disney Aladdin. Già fanno? Sì. Sì, dai, stiamo conto com'è giusto. Cos'è la besciabella? Un animale o una panna da cucina? Una panna da cucina? No. Questa cosa secondo me non la fate neanche voi. Ma secondo me neanche il gioco lo sa. Quanti capelli abbiamo in media sulla nostra testa? Ma che ne so io? 100.000, 200.000 oppure 300.000? In base a quanto... A quanto te li tagli, Cri? 200.000? Eh? 200.000? Quante porzioni di frutta e verdura dobbiamo mangiare al giorno? 3,3,3,3,3,3,3,4 oppure 5? 3,4? 5. E non vogliamo risultare maleducati. Cosa dobbiamo fare questo? Quando sbarighiamo? Mettere la mano davanti. Bravo. Cosa producono gli alberi che ci permettono di vivere e respirare? La natura. Ossigeno. Ossigeno, è vero. Chi si chiama Stefano quando festeggia il suono mastico? Ma allora, dopo il 25 cosa c'è? 26? Sì, di che mese? Dicembre. Bravo. Come si chiama la tastiera che utilizziamo? QWERTY, Smarty o Simblere? Ne sparo un a caso. Smarty. No. Vabbè, lo sapete neanche voi, neanche noi. Cosa si dice giolati? Come si dice giolati in inglese? Ice cream. Bravo. Qual è l'animale simbolo del WWF? Eh? Qual è l'animale simbolo del WWF? Quello che si... Che tra poco si è stinto. Che ne so io. E' bianco ed è nero. Giraffe. Eh! Sta preso sugli alberi. Non può essere il coala, grigio. No. E' un animale bianco e nero che va sugli alberi. che mangia il... che mangia il... una cosa verde, è un po' lunga. Non posso dire la zepra perché non va sugli alberi. Manu, qualcosa che ha le orecchie nere. è un po' lunga. Non mi viene. Non mi viene. Ti viene proprio? Manu, qualcosa tipo un coala, ma bianco e nero. Che... che sta sui rami. un panda. Bravo. Ah. Ehm... Ok. ce ne facciamo altre. Cosa mangia la balena? Che ne so. Un personaggio di Spongebob? Chi è? Pla... Plan... La... Plan... Che ne so. Plan... Ah, dico io, dai. Plankton. Quanto fa il 9x9? 81. Che non lo scappano da nessuno. Nello spazio, fra la Terra e la Luna, ci potrebbero essere tutti i pianeti del Sistema Solare. Vero o falso? Vero. Bravo. Come si chiama la cattivissima strega del mare? Nel film della Disney, la serenetta... Ur... Non ci sono, eh? Guarda, la ricoglie questa, dai. Ursula. Se gli dicono... Si... Di cosa sono ricchi i fagioli e la carne? Pro? Di proteine. Qual è la... La... Capitala? Ti senti capitala? Vabbè. Capitale della Germania? Sanità. Da che ne so io? Beh. Bar. 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 Bear. Berlino. E a cosa fanno bene le carote? Ai occhi? Alla vista? In Cina per dire al cuoco che ha cucinato bene è concesso a ruttare, è vero o falso? La sappiamo questa. È vero. Domanda difficile. Quanti sono i bidoni della raccolta differenziata? 3, 4, 5 oppure 6? 3, 4, 5, 5. Cosa si festeggia il primo maggio? Festa dei Santi? Festa? Scusa? Non ho detto bene. Festa? Lavoratori. 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 Con quale unità di misura è possibile misurare il peso di un file? File? Il bitcoin in megabit o in pixel? Il megabit? Beh. Come si dice bianco in inglese? Vabbè. White. Chi è attualmente il presidente della Repubblica Italiana? Meloni. è la Repubblica Italiana. Mattarella. Mattarella. Ma che ne so? È giusto. Come è giusto? Veramente? Aspetta, vediamo. Mattarella o Meloni? Mattarella. Ma che ne so? Mattarella. Che ne so? Mattarella. Mattarella? Dai, ma come si fanno le mie quiz? Niente, questo video è finito qua perché non sappiamo... Trova altri quiz. No, dai. Va bene. Va bene, raga. Questo video è finito qua perché oltre a forno non ci sono altri quiz. abbiamo fatti tutti. Niente. Va bene. E... Ah no. Dove è Spike? Spikey. Vi salutiamo. Da oggi è tutto e... Bye bye. Aspetta. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye.